Andrea Porta Ciappula Faccio il codar Ma porca codia Buona 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 come la piazza buona E' con Rafa Attenzione L'uomo che nel quattro ore c'era fatta la vomitando Sta per iniziare il viaggio della speranza Il viaggio della speranza sta per presentare E' la tropella Nata nel culo, paese di merda Il viaggio pesce Cypress Il vai che ce n'è Vorrei che Al Pacino fosse il mio padrino Tony Montana invece come il mio vicino E insieme a Poli e a John Gotti Non mi batti Sono io il boss e mai tende scenderò a parti con te Il tuo lavoro Non è un tesoro E' meglio fare come Panicchi Santoro Prendo una penna Si lo farò Te la confisco in gola come in casino Vorrei che Al Pacino Vorrei che Al Pacino fosse il mio padrino Tony Montana invece come il mio vicino Insieme a Poli e a John Gotti Insieme a Poli e a John Gotti non mi batti Sono io il boss e mai tende scenderò a parti con te Vorrei che Al Pacino fosse il mio padrino Tony Montana invece come il mio vicino Tony Montana invece come il mio vicino Insieme a Poli e a John Gotti non mi batti Sono io il boss e mai tende scenderò a parti con te C'è anche un piccolo video in questo camion Si, il video ci sta perciò Cosa te ne fai di questa spiaggetta? La spiaggetta direi che è un po' intima Un po' troppo intima però... Però dai... E' un Dania che si fa bello per... Non so bello per... Per vestitino nero Per vestitino nero Ricordiamo la serata di ieri Che non si uno sa ancora niente Questa serata di ieri Serata abbastanza moderata Si, si però... C'era un po' troppa convulsione per la discoteca Però... Bellissima Però dai, la zompettatrice valeva la pena Eh, la zompettatrice era di classe E riflettiamo che aveva dei gusti ottimi Come avrete capito siamo a Rimini Si nota subito che siamo a Rimini Beh, allora, se no ti inzuppiamo tutti, sicuramente A parte che qua capiscono l'italiano Che sta facendo tutto di merda Bello sto posto, va Quando è che dobbiamo tornare? Mercoledì, Allena? No, sabato prossimo Mercoledì delle prossime settimane Che cosa? In tempo per il G2 Allena, quando è che dobbiamo tornare? Mercoledì, no? In tempo per il G4 Guarda, io... Allora non mi fa tutto sotto non torno Quindi... Potrebbe essere... Domani potrebbe essere un mese Mai più Vabbè dai... Adesso andiamo a fare un bagnettino Adesso andiamo a fare un bagnettino Andiamo a fare un bagnettino Andiamo a fare un giro qua A parte la tipa ha sentato le zine fuori Adesso andiamo a puntare, no? Ragazzi mi dispiace per chi vedrà questo video in forlì Non siete qui con noi però La vita ha voluto questo Allora devo salutare il sacchetto che è a Milano Con la nebbia Con la maestra Ciao il sacchetto Ciao a presto Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501